Ciao, sono Nicolò, insegno in Citizen Ashtanga Vinyasa. L'ashtanga è stato un amore a prima vista. Ho trovato tutto ciò che era già noto a me, ma in un unico sistema. Ho trovato una casa che accoglieva diversi pezzi di me, che finalmente potevano suonare insieme in maniera armonica, e da lì non ho più smesso di praticare. Ashtanga è caratterizzato essenzialmente da tre elementi che si sincronizzano tra di loro. Il respiro, chiamato Ujjayi, il secondo elemento, le chiusure energetiche tramite banda, chiusure muscolari, e infine per aumentare l'aderenza alla realtà dell'istante si utilizzano una tecnica chiamata di focalizzazione, ovvero Drishti. In ogni istante la pratica richiede che lo sguardo venga indirizzato in un punto specifico. Questi tre elementi insieme diventano degli appigli ineffabili al momento presente, degli agganci incredibili che permettono di indovarsi esattamente in questo istante e questo fa sì che ci si apra al mistero del presente, quindi si esce da ciò che è il gioco mentale o il gioco dei limiti, quindi quei pensieri giudicanti, quei confini ristretti che vengono invalicati da questi tre elementi insieme e finalmente ci si apre alla vera natura del sé, che non è soltanto associata, identificata con un elemento fisico, un elemento mentale, ma si entra in questo senso di un non separazione. Il tetto si è bruciato, ora posso vedere la luna.